Il tema che oggi viene affrontato qui al Forum di Empaio è importante perché parliamo di investimenti sostenibili e di futuro. Oggi è il tema principale, pensiamo al problema degli studenti, agli studentati, alla nuova struttura che dovrà avere la sanità, soprattutto per gli anziani. Sono temi importanti che garantiranno sì una sostenibilità non solo economica ma sociale nel futuro del nostro paese. Inflazione e venti di recessione, è un momento di contrazione degli investimenti o può essere un'opportunità? È un momento diverso, nel senso che sicuramente ci sono certi investimenti, pensiamo al real estate classico, che soffre per l'aumento dei tassi. Ma dall'altro punto di vista possiamo avere possibilità di investire in campi che hanno rendimenti molto superiori, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista sociale. Sicuramente gli investimenti sostenibili dovrebbero avere, anzi speriamo che abbiano un rendimento ben superiore a quelli che oggi sono i tassi di inflazione che abbiamo e compatibilmente con i tassi di interesse per il futuro.